Via alla nuova stagione agonistica di Natural Bodybuilding nel sud Italia. Si è tenuta sabato scorso presso il Palacasoria di Napoli la prima selezione di atleti natural provenienti da tutta Italia, che andranno a sfidarsi al campionato italiano organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica FCFN a Pieve di Cento, Bologna, il prossimo 15 settembre. Un grande ritorno quello dell'Associazione di Natural Bodybuilding, già nota sul territorio, per aver visto distinguersi nelle scorse stagioni gli atleti molisani Vincenzo Alfano e Stefano Santoro, rispettivamente Procard Athlete e campione italiano di Men's Physique. Sono stati numerosi gli atleti partecipanti che si sono confrontati alla manifestazione agonistica nelle rispettive categorie maschili di Bodybuilding, HP, Classic Physique e Men's Physique ed in quelle femminili di Bikini, Figure, Athletic e Woman BB. Le categorie servono ad indicare parametri e criteri di valutazione prestabiliti dalla giuria e nello specifico dall'Associazione Ospitante, ai fini di una valutazione obiettiva e coerente con l'intento di mettere in risalto le caratteristiche salienti attraverso il rispettivo ordine dei quattro parametri fondamentali per ogni atleta ideale, vale a dire muscolarità, condizione, linea e presentazione. Uno sport, quello del Bodybuilding, che si impone come obiettivo di promuovere e condividere la cultura fisica come stile di vita, promettendo di raggiungere sempre più persone, accorciando le distanze e rendendo più tangibile e realizzabile il connubio tra dieta sana ed equilibrata e fini estetici. Una realtà dunque che non vuole soltanto apparire ma insegnare e tramandare uno stile di vita sano.